darei subito la parola al dottor Andrea Trisoglio che rappresenta la Fondazione Cardiplo e rappresenta anche il nostro committente che è appunto l'impresa sociale con i bambini e darei la parola appunto al dottor Trisoglio per una breve intervento che appunto riteniamo molto importante proprio perché sono loro che hanno messo in moto questo progetto questo mega progetto poi perché noi siamo uno dei soggetti ma ci sono ben altri appunto progetti che lavorano tutti verso la povertà di contrastare la povertà educativa bene grazie la parola grazie buongiorno a tutti grazie agli organizzatori a me piace moltissimo il titolo del vostro del vostro progetto perché ogni parola del titolo merita un'attenzione particolare perché si lega indissolubilmente a quello che voi volete ottenere vuol dire dare la possibilità a dei ragazzi di e delle ragazze di continuare in maniera proficua il loro impegno nell'ambito scolastico ma la scuola da solo non ce la può fare ecco perché nasce questo progetto e mi piace raccontarvi una storia una bella storia secondo me perché quando le fondazioni cercano di aggredire un problema che è un problema ahimè è un problema sistemico quello della dell'abbandono scolastico da soli non ce la fanno non basta erogare dei fondi occorre regolarli bene e occorre fare in modo che ci sia un coinvolgimento non solo delle scuole perché se no si rischia di far di dare questa immagine il problema dell'abbandono scolastico è un problema solo della scuola no problema dell'abbandono scolastico non è un problema solo della scuola ma è un problema che riguarda l'intera cittadinanza e dal momento che ma poi lo lo insegnate voi a me i motivi che determinano l'abbandono scolastico sono molteplici non c'è una formula non c'è una medicina che riesca a risolvere i problemi l'unica medicina è quella di capire le ragioni e contestualmente ecco l'importanza del territorio di una scuola che è permeabile al territorio e appunto attraverso il territorio trovare queste quelle soluzioni ecco la storia che vi racconto il progetto il vostro progetto è stato inviato in risposta a uno specifico bando che si chiama adolescenza bando adolescenza il bando adolescenza e all'interno di un fondo che si chiama fondo per il contratto della povertà educativa minorile immaginate questo fondo come una scatola all'interno di questa scatola ci sono vari pacchetti ogni pacchetto è uno strumento uno di questi strumenti è proprio il bando nazionale adolescenza e voi siete uno degli 86 progetti che sono stati finanziati dalle fondazioni la storia che vi racconto e la storia su come è nato questo fondo perché è una buona pratica finalmente una buona pratica che magari sta facendo anche discutere in europa perché perché il problema del del contrasto alla povertà educativa minorà minorile è un problema che con naturale alla alla volontà la capacità la mission delle fondazioni di intervenire per migliorare la società in cui noi in cui noi viviamo e allora c'è stato questo accordo con il governo perché per gli anni 2016 2017 2018 le fondazioni da una parte tutte le fondazioni che fanno che sono afferenti ad acre quindi le fondazioni di origine bancaria verseranno 30 mila euro hanno versato 30 milioni di euro 30 milioni di euro in un fondo e questo è il fondo per il contrasto alla povertà minorile accanto a questo c'è l'impegno del governo che ha realizzato una un meccanismo fiscale è un meccanismo fiscale interessante perché sostanzialmente il governo dice io attraverso il credito di imposta degli utili sulle fondazioni anziché prenderlo e inserirlo nella contabilità generale lo prendo e lo metto in questo stesso fondo e quindi abbiamo un fondo da circa 120 milioni di euro all'anno per tre anni grazie al quale finanziare delle attività che vadano a cercare di dare una soluzione a cercare di trovare delle soluzioni eventualmente modellabili, ecco il concetto di modello e quindi replicabili sui problemi dei ragazzi allora sostanzialmente i tre grandi, qui adesso voglio andare in maniera veloce c'è stato un primo bando con prima infanzia ci sono stati 80 iniziative finanziate per 62 milioni di euro circa un secondo bando che è quello a cui avete partecipato voi per interposta persona sono stati finanziati 86 iniziative per 73 milioni di euro poi ce n'è un altro bando nuove generazioni che finanzierà 83 iniziative per circa 66 milioni di euro poi ci sono altre attività collaterali tipo per le scuole delle aree terremotate ma i tre maggiori sono questi voi siete inseriti nell'ambito del bando adolescenza e il grosso problema che dovete affrontare è il problema dell'abbandono scolastico che attenzione, l'abbandono scolastico non è solamente e qui è quello che si può sentire ad esempio sui treni, nel bar non è solamente il problema che un ragazzo non termini la scuola è un problema invece un po' più grande perché l'abbandono scolastico si lega ad esempio ai NIT io mi occupo di NIT quindi di persone che non studiano, non lavorano e sostanzialmente non stanno facendo alcuna attività formativa ebbene, io mi occupo della fascia più fragile di questi NIT questa fascia più fragile dei NIT è alimentata dall'abbandono scolastico la letteratura ci dice che l'abbandono scolastico è legato anche al perpetuarsi in famiglia delle condizioni, sostanzialmente la famiglia di una persona che ha abbandonato la scuola tendenzialmente non solo non c'è più l'ascensore sociale ma addirittura c'è una sorta di palla di piombo che hanno questi ragazzi nel poter invece inserirsi in maniera più proattiva e dinamica all'interno della società il racconto che vi facevo è innanzitutto la bellezza di trovare una partnership tra pubblico e privato sulle risorse quindi vi ho detto, le fondazioni ci mettono le risorse perché è il loro mission lo stato dice io tasso i proventi che voi fondazioni avete ma attenzione io lo utilizzo in coerenza con la vostra mission non solo io mi faccio un passo indietro e tutto questo fondo viene gestito da un ente che è stato individuato in fondazione con il sud notate, fondazione con il sud che gestisce un progetto nazionale sulla dispersione scolastica perché noi crediamo che sia anche un modo per smarcarsi da un certo tipo di atteggiamento il sud può diventare proattivo anche su attività che vengono fatte e su problemi che sono diffusi anche al nord e per rendere il più possibile chiara la modalità con cui questi fondi vengono gestiti fondazione per il sud ha creato un'impresa sociale che è con i bambini quella che sostanzialmente ha valutato positivamente il vostro progetto quello che gestirà tutte le attività erogative e che è quella anche che controllerà che effettivamente le attività progettuali vengano effettivamente svolte e questo è dal punto di vista questa novità di un apparnici pubblico privato in cui il pubblico si fida di un privato che ha dato, credo, ha dato modo di far si apprezzare per la modalità con cui vengono gestite le risorse secondo punto, la centralità del terzo settore i problemi della scuola, ripeto o vengono intesi come problemi non solamente della scuola all'interno del confini un altro termine che c'è nel titolo di progetto nei confini scolastici ma come qualcosa che invece riguarda il territorio e noi quando pensiamo al terzo settore non pensiamo che il terzo settore debba fare qualcosa di assolutamente nuovo deve cominciare a mettere a sistema le buone pratiche che esistono so che c'è un gruppo di lavoro che oggi lavora su questo fortunatamente esistono bisogna rafforzarle, bisogna puntare su quelle che effettivamente funzionano terzo aspetto terzo aspetto è la comunità educante voi mi insegnate cos'è la comunità educante la comunità educante a noi piace perché? perché quando noi in un bando mettiamo l'obbligo di una partnership tra enti diversi noi non lo facciamo per mettervi dei limiti ma perché siamo convinti che solamente un approccio che è una visione del problema da punti di vista diversi scuola, ente pubblico non profit e non profit di vario genere possa veramente garantire quella rete locale senza la quale anche il migliore dei progetti col miglior protocollo tecnico che viene poi attuato non può atterrare in quel territorio perché i territori nostri sono talmente diversi e le possibilità, le potenzialità dei vostri territori sono talmente diversi per cui anche in questo caso è importante che ci sia una comunità educante che parta da quello che c'è di buono nel vostro territorio e che riesca anche grazie al confronto con quello che fanno altri territori a realizzare al meglio l'iniziativa io devo stare nei 15 minuti penso di essere stato nei 15 minuti io vi ringrazio io ringrazio perché io credo davvero che la vostra sia una sfida voi nei prossimi 4 anni lavorate in questo progetto provenite da luoghi diversi avrete anche probabilmente degli atteggiamenti diversi nei confronti del concetto stesso di progetto e secondo me questo è un modo anche per voi di rimanere sui territori in maniera attiva anche al termine di questo progetto perché penso che sia una sorta di capacity building anche per voi grazie mille e grazie agli organizzatori grazie al dottor Trisoglio per questo contributo molto importante che ci ha permesso di aprire diciamo l'orizzonte del contesto in cui si inserisce questo progetto ci ha dato alcune chiavi di lettura secondo me la chiavi di lettura più importante ne ha dette altre che mi sembra diciamo significativo evidenziare è che questo progetto è inserito in una strategia molto più ampia di investimenti e di risorse finalizzate a contrastare le disuguaglianze sociali di questo paese che passano prevalentemente secondo il mio punto di vista essendo uomo di scuola attraverso le povertà educative declinandola poi nella dispersione scolastica grazie a tutti